Vai al gimnassi, un momento, ci arriva Sia mina già stanca, e questo mangiare anche i cani, e questo dolce, metti in frigo, dopo Il frigo sia più freddo, più buono. Prendile e tente cadi, e tente cadi No, no, c'è un mio? C'è un mio? C'è un mio? C'è un mio? Fitta fitta, sottile e sottile. Oio, menta, aceto o limone Sottile, sottile, oli, menta e limone C'è un mio? 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 Mi? C'è un mio? C'è un mio? Lascia dentro, per i miei, che il rather. Il più bene per i miei, che il terreno lo prevele. Tu non la magra, è un poido, per i miei ochini, è un po' che. Topi renno a facciare che non ci sono molto diffusere il panico, ma non ha stata più forte. Vediamo che fanno installare le pensi. Come mi viene, mi viene aiuto a fare lo? Salto, ti viene. Esa non sono di lettare quel tipo di metano, ma non ha scinnato. Ti rendono, adoro, che succedono a ridere. Alcani, loro chiamano che sono una posa del risulta. Gio, per i miei, non hanno aiuto. bruschetta c'è l'ha fatto? ti piace? bravo amore c'è l'ha fatto bruschetta buonissimo vero? si si sta trovando ma se non è caldo piccante si? buona? non piccante vuoi peperoncino? non è piccante come no? ma adesso mi sono venuti a posto e mi sono detto non mangiare qua perché se ne va a dare la trama regno ho detto prima assaggiare se è buono ok questo assaggiare quando è buono e mangia comunque non è scattata pure la macchina di frattempo ma non è buono ma non è buono ma non è buono ma buono? quando è piccante la vedura ha visto? vedo le avanti mangiare va di solo noi buona si lo vuoi ancora? andiamo a mettere la carne aspetta la carne? anche io mi passo giusto una bruschetta ciascuno buonasera 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 dimmela così buonasera potete mangiare perché c'è ancora sia abbiamo lasciato una ciascuno si si manca così sia guarda io ho già detto quando è piccante il vedule è questo frisca e mangiare in cera c'è sapere non beva lunghino sia piccante è in cera scusami si gioca l'inzia si è rovetto un piatto? aspetta guarda io donna lo sai che ho pensato un altro ristorante secondo me dove si è buono e pesca lo seria sul ponte vabbè ti vai? ma chissà se non lo sanno fare perché quando sono andato mi ricordo che era buono allora lo cucinavano bene però sennò si possono fare il primo a base di pesce eh? mangiare con questo? può fare? il riso il problema più grande di quel ristorante è che quando vai dentro pare che sei stretto non lo so quando vai fuori pare che sei in mezzo alla strada così non lo so perché però se mangiare bene si spende poco ho visto? eh noi mangiamo così e qui il riso e quantale? col peperoncino cioè se vuoi fare la margherita a 3 euro o almeno lo facevo lo seria sul ponte però no che te la porti quella che ti mangi il latte quello che poi tra le altre cose andiamo con 17 sì hai ne vuoi due patate? se le hai messo ketchup e mette le maionette ketchup metti solo ok attenta ok metti solo a vedere tu lo sai ma che amami quando sorprende le altre? lo sai? cosa? i dolci wow quale dolce? i dolci mai ho visto? i dolci i dolci la metti anche qua? hai eh? cos'è? la maionese la mia fette pure che non sa la merda che è? ok 4 ottane qui come camminano? vedi l'aglio passano i tiso qua il giorno lo sai? eh perché hanno aperto due aziende agricole sofia buona la spineta tutto il sale non c'è no buono questo sale quando ti hai fette di carne qua? eh Gemma non l'ha avuta e tu? eh la muovia ma me non la vuoi intera ma la vuoi un'amica io la mancina di un po' io la mancina di un po' la mancina di un po' la mancina di un po' mamma ma che c'è? i fagioli la telendia qui è mangiata così? si si oh allora quando mi sa la mancina di un po' no sentivo rumore ah e lui faceva che c'è mamma che sta facendo ahah i fagiolini della telendia mmm vieni che c'è lo sale la gella ce l'ha non c'è mamma prendete Siamina vale? la rosario Siamina mi sono dimenticata di mettere questo guarda Siamina su carne sì io? guarda guarda qua che hai fatto mh ma è pulito è solo per questo era ah con il riso ma com'è riso? ah con il riso brava Gera guardate mi chiedevi allora Sio vai fai pianti tu stada e quando cresci tu dove vai cogliere ahahahah e che rossi perdono? le rosse vedi come sono vedi come stiamo perdendo ce l'ha portata qui queste rosse ecco la prego oh vedi no no pon che buono metti qui Gemma grazie i colori belli i colori belli ma ci sono sette vedi la guanna che ti porti si no no mangiare qui buono quando porto a casa non mangio quando c'è persone mangiali insieme si io mangio no no le piazza le piazza le piazza come c'è stato? che non ci sono mai rimasti sempre spalato ma si carne? ma le piazza non si fanno niente si fanno solo male ma si carne? ma si carne? no ti piace lo ha? buona c'è stato un paese dove si carne? no non grande così e ci piccoli 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 non posso mangiare così queste sono due varietà questa è quella più buona giallo e rossa viola ma io ho una wifi si? che significa? è la mia come mai basta però che queste sul dolce non sono io da tutto sport a mamma come è finita? come è finita? come è finita? come è finita? ma ne tiene pochi? non lo so 5 giga 5 giga 5 giga a me piacciono queste però devi portare a me male le panze non mi ricordo con la batteria a che punto stiamo? no non lo so però se clicco questo vado pure via dal gioco e non lo clicco allora c'è più come è che sono fagioli ma anche i fagioli qua c'è sì i fagioli si pure i fagioli e qua ci mettemo la pasta e facemmo il pranzo completo pasta e fagioli e ci mangiamo la mociata ma si gioca meglio su questo ipad o sul computer? ultimo si congela com'è? se si congela quello? si si? si anche mette congelato ti piace papà? ho mangiato tutto buono piace è una cosa nuova nelostrio freddo freddo se mette congelato più buon come chiamato ci ricaccia? come chiamata? si sente meglio che rè cosa? quando mette ci ricaccia più buon ghiaccio uh più buon cun lung stu.nma leo Non si non dorme. Non mi ha detto un po' di più. Non mi ha detto che si mangiava? Tu non mi ha detto un po' perché. Pagano, non mi ha detto un po' di più. Ma dove l'avete prezzo? Un po' di più. Il do'о di più. Gli in prima volta. Tutti chi le riconosciano? Hanno signato? Tutti 2 minuti. Il 22 minuti. Il 4 minuti. Se non si fa fare un po' di più. D'accordo. Quindi non si lo faremo. Non ci si poteva un po' di più. Qu'è punto e che bisogna fare un po' di più. filla bella bella ch Lao usto Mega Gera Jemma aloi? Arroi maggi 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 Iscriviti a cura Gera Mazzimo Gera 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 Mazzimo Choccolati ciò che l'esimo che ha fatto con un olato mi ha detto è un olato mi ha detto il profumo se fosse un olato sono sono ulitato Svaglia Svaglia ho nato e quindi vedi in attacco Grazie a tutti.